Un po' tutti hanno la sensazione che ci troviamo di fronte a un momento di svolta. Puntroppo le sensazioni negative sono maggiori delle sensazioni positive. Ora però noi non possiamo basare le nostre analisi sulle sensazioni, dobbiamo farlo sui dati di fatto. Ebbene, all'orizzonte si vedono diversi rischi e all'interno di questo video cerchiamo di riassumerli. L'elenco di questa decina di rischi che ti andrò ad elencare mettono a rischio i tuoi soldi, i tuoi risparmi, mettono a rischio l'economia, mettono a rischio persino le borse, i mercati finanziari mondiali. Proviamo a fare un punto della situazione in un unico video e l'invito che ti faccio è quello di guardarlo dall'inizio alla fine e poi di commentare in basso e farmi sapere la vostra. Infine, prima di iniziare, ti devo dire che tutti questi rischi messi insieme, quindi tu li devi vedere nel loro complesso, non ne singoli rischi. Nel loro complesso possono di fatto creare uno strike come al bullying, i birilli che cadono tutti per terra. Partiamo da quelli che abbiamo accennato e poi arriviamo a quelli di cui non abbiamo parlato. Uno, abbiamo già parlato del rincaro dell'energia. Ognuno di noi quando pensa al rincaro dell'energia pensa alla bolletta di casa che aumenta. Ma di fatto questo comporta il rischio numero due, che è l'inflazione. Cioè se le bollette di casa tua aumentano, ma aumentano pure le bollette delle aziende, automaticamente loro che vendono servizi e prodotti aumenteranno il prezzo di vendita e tutto ci costerà di più. Bene, ma di questi due argomenti ne abbiamo già parlato ampiamente. Rincaro dell'energia, inflazione. Tutto ciò messo insieme porta al terzo rischio. Qual è il terzo rischio? Il terzo rischio è che l'economia venga contratta, cioè si fermi, si stagna, non si muove. Alto che ripresa, boom economico! L'economia si ferma, l'occupazione si ferma e i prezzi continuano ad aumentare. Questo lo scenario è peggiore. Se i prezzi crescono e cresce anche l'economia, beh, per i manipolatori di professione, coloro che stanno creando tutto questo scenario, diciamo che tutto ciò è il danno minore. Ma se tutto quello che questi signori stanno creando porta a una crescita piatta, perché tutti i soldi vanno verso i mercati finanziari e non nell'economia reale, e aumentano di più i prezzi, capite che è uno scenario, un mix catastrofico. Quarto punto, mancano i rifornimenti e gli approvvigionamenti. Oltretutto, anche qualora ci fossero rifornimenti e approvvigionamenti, i governi, gli stati, il potere centralizzato, riesce con green pass e cazzate minchiate varie a complicare il sistema degli approvvigionamenti e dei rifornimenti più di quanto non lo sia. Considera che il blocco dei rifornimenti e degli approvvigionamenti relativi alla produzione di nuovi componenti energetici hanno causato già dei blackout. Considerate che se ne sono accorti, guarda questo articolo, anche quelli di Repubblica, attenzione, se ne sono accorti pure loro. La Cina venerdì scorso ha dovuto aumentare la sua produzione di carbone per far fronte già ai blackout che hanno colpito tutta una serie di regioni, aziende, cittadini cinesi. Cinque, la scarsità. La scarsità cosa produce? Produce un aumento del costo delle materie prime, anche di questo ne abbiamo parlato. Il caso più eclatante è quello dei CIP, che di fatto sta bloccando il settore delle auto, ma non è accolpito solamente questo settore. Sono stati colpiti più settori. Questo però può portare una buona notizia. Una buona notizia per chi? Per i mercati finanziari. Perché? Che poi è l'unica cosa che conta per i banchieri. Perché se i banchieri centrali si accorgono di tutto sto casino che sta per succedere, dato che hanno già annunciato un rallentamento della politica accomodante e degli stimoli fiscali, potrebbero ridirarsi rispetto a questi tipi di decisioni che hanno già preso e continuare a pompare denaro e drogare i mercati finanziari che andrebbero a festeggiare. Quando c'è nuova droga da consumare, i mercati finanziari festeggiano. Nuova droga da consumare intendo nuovi soldi che vengono messi in circolo dalle banche centrali. Non lo dico tanto per te, ma lo dico per l'algoritmo di YouTube. Sesto punto. Abbiamo già detto dell'inflazione. È che è ormai fuori controllo sia per la banca centrale europea, sia per le banche mondiali come la Federal Reserve, eccetera, eccetera. Questa inflazione potrebbe causare un aumento dei tassi di interesse, una riduzione degli stimoli, e basta una minima dichiarazione, malinterpretata dai mercati finanziari che si scatena il finimondo. Sette. Il rischio cinese. Da un lato c'è un rischio geopolitico. Il presidente cinese, con forza, ha gridato le sue intenzioni di riunificare la Cina con Taiwan. Taiwan ovviamente non ne vuole sentire parlare, ma il presidente cinese ha detto dovrà essere e sarà realizzata. Punto. Gli Stati Uniti a tutto questo non ci stanno. Sanno benissimo che Taiwan per i cinesi rappresenta una muraglia, uno schermo, oltre a fargli molto comodo appunto per la produzione di chip. In tutto questo contesto non vi deve sfuggire il fatto che il G20 organizzato dall'Italia di Mario Draghi sulla crisi in Medio Oriente dell'Afghanistan ha visto di fatto un flop. Cioè Cina e Russia non se li sono cagati neanche di striscia. E questo non è un segnale di poco conto. Sempre nella Cina arriva l'ottavo rischio, che è il rischio di cui abbiamo già parlato all'interno di questo canale, della crisi immobiliare. Il rischio del default, del colosso immobiliare Evergrande. Il problema è che in Cina il rischio immobiliare non colpisce solo questa azienda, ma ne colpisce molte altre. Il nono rischio è il tetto del debito americano, di cui abbiamo parlato all'interno di questo canale, è che i repubblicani insieme ai democratici al momento hanno rimandato, cioè hanno risolto, hanno detto rimandiamo tutte le decisioni a dicembre di quest'anno. Sta roba qui del tetto del debito è una cosa che tiene in suspense tutta l'America ogni anno. Ma questa volta potrebbe essere diverso. Io mi auguro di no e credo sinceramente di no. Ma vi ricordo il ritorno del biondino di Donald Trump, che parteciperà molto probabilmente alle elezioni di metà termine del prossimo novembre 2022. Hai capito bene, ci sarà il ritorno di Donald Trump 2 la vendetta. Biden attualmente se la passa male. Vediamo che cosa accadrà. Il decimo rischio è la spaccatura dell'Unione Europea, di cui non stiamo parlando in questi giorni perché ci sono altri argomenti che stiamo trattando all'interno di questo canale. Abbiamo visto la spaccatura tra i paesi dell'est e i paesi come la Francia, la Germania e l'Italia per quanto riguarda il fronte immigrazione. Ma la battaglia non è sul fronte immigrazione. La battaglia è sul fronte della libertà. Dal mio punto di vista questi piccoli paesi saranno convinti dai soldini o saranno convinti diversamente, insomma, a accettare le condizioni del futuro dell'Unione Europea, cioè l'ennesima cessione di poteri, ad una struttura sovranazionale che non ha nulla a che fare con i paesi stessi. Poi abbiamo le elezioni in Francia. E non è assolutamente detto che Macron venga riconfermato. Lo scenario potrebbe cambiare enormemente anche per quanto riguarda il destino dell'Unione Europea. Tutte queste sono situazioni che si possono concretizzare, come si possono non concretizzare. Ma questo è lo scenario attuale. Con questo video ho provato a farvi, spero che sia utile, aggiungete voi qui in basso nei commenti eventuali altri rischi che vedete all'orizzonte, un punto della situazione su una serie di argomenti che abbiamo trattato all'interno di questo canale e tutta una serie di argomenti che speriamo non dobbiamo trattare nei prossimi mesi all'interno di questo canale. Mi auguro sinceramente che questo video vi sia utile, come spunto di riflessione anche per poi prendere delle decisioni vostre personali per quanto riguarda i vostri risparmi, il vostro lavoro e la vostra vita quotidiana. In fin dei conti, queste analisi che possono sembrarci molto distanti e molto lontane da noi e dai nostri interessi devono effettivamente servire solo a questo.